Cioccolati, paraline, creme spalmabili, cremini, barrette, croccanti e tantissime altre golosità saranno al centro della decima edizione di Art & Choc, in piazza del Popolo a Ravenna, da giovedì 9 a domenica 12 novembre. 17 aziende, provenienti da tutta Italia, proporranno il meglio della loro produzione, da Torino a Reggio Calabria, da San Donat di Piave ad Agrigento. Inoltre, per tutto il fine settimana, degustazioni a tema in bar e ristoranti. Avremo la festa del cioccolato, che quest'anno saremo al decimo anno, quindi un anniversario importante. Importante perché è una festa che fa da preludio alle festività natalissie, è anche una forma di accoglienza turistica, che in questo caso porta dalle città vicine, e comunque anche per i turisti che sono già in città, una novità è qualcosa sempre di molto bello. Le novità di questa edizione? Abbiamo l'artigiano perugino, che arriva da Perugia, con l'altro dell'astre che lui fa ormai da molti anni. Poi abbiamo un'altra azienda di Perugia, che è legata al gruppo di Euro Chocolate, e un'azienda di Alessandria, la Small Chocolate, e poi, l'ultimo proprio entro, è un'azienda che arriva da Venezuela con il cioccolato da Venezuela e da Spagna.